Se essere stato operato la protesi di ginocchio, ricordati che il decorso non è sempre così complicato. Il giorno dopo l'intervento potrai camminare già con delle stampelle poggiando il piede per terra. L'importante è che recuperiate subito le estensioni, quindi è molto importante far recuperare sia al paziente che al fisioterapista l'estensione del ginocchio, questo sia in piedi che a letto, eseguendo gli esercizi di ginnastica isometrica, cioè contraendo il quadricipio a ginocchio dritto, che permettono appunto l'estensione. Il giorno dopo l'intervento anche sarà iniziata il recupero della flessione, flessione soprattutto passiva del ginocchio, magari con l'ausilio di utilizzo di una macchina speciale che si chiama KineTech che permette la flessione del ginocchio in modo passivo. Grazie.